Sessanta tra poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa hanno blindato il centro storico di Teramo durante la raccolta di firme per la presentazione di liste contrapposte, quella di Casa Pound, estrema destra, e quella comunista di Potere al Popolo. La dislocazione logistica imposta dalla questura teramana dei due banchetti, Casa Pound in Corso Cerulli e Potere al Popolo in Piazza Martire della Libertà, ha permesso che non ci fosse contatto tra i due gruppi ed ha evitato i temuti scontri. Alle 18 in punto almeno 30 attivisti di Casa Pound sono arrivati in Largo Melatino ed hanno montato la loro postazione munita di bandiere e di foto del loro leader Simone Di Stefano. Alla stessa ora è iniziata la raccolta di firme di Potere al Popolo in Piazza Martiri e tutto si è svolto regolarmente fino alle ore 20, quando entrambi gli attivisti hanno smontato Baracca e Burattini e la città è tornata alla tranquillità. Le misure imponenti, mobilitate dalle forze dell'ordine di Teramo, sono state attivate dopo l'affissione di striscioni anonimi di estrema sinistra, affissi sul Corso San Giorgio e rimossi dalla Polizia Municipale, dove c'era scritto «Le nostre montagne parlano di libertà, la nostra cultura di migrazione, lavoro, solidarietà, a Teramo i fascisti non sono stati mai benvenuti». Un avvertimento pericoloso dunque, che però non si è concretizzato in alcuno scontro.